Ci siamo, la settimana scorsa abbiamo avuto una meravigliosa coppia di ballerini, questa sera abbiamo tre bellissime ragazze. Iniziamo con Alessia Amarozzi, un grande applauso per lei e non possiamo non ricordare che questo è il momento della baciata, perciò questa sera le queste bellissime ragazze vi dimostreranno a tutte le donne, non bisogna per forza ballare in coppia, da sole possiamo fare grandi cose per Alessia, per l'ora, per voi, il personalissimo show di baciata, Alessia Amarozzi! Grazie! 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 Sì, vabbè, vabbè! Sì, 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 sì Sì, 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 sì